Siamo oramai a un'ora abbastanza tardi, potranno sicuramente usufruire coloro che sono rimasti e hanno avuto la pazienza di aspettarci, che ringraziamo evidentemente, un grande saluto a tutti. Quello che volevo dire per chiudere questa serata è che rinnovo l'invito a muovere le vostre critiche, a muovere i vostri sorgimenti, a fornirci le vostre idee. Spero a breve di aprire una sede nella quale poterci raggiungere. Con voi saremmo sicuramente disponibili, come tutti quanti, ad aprire dei tavoli di confronto, per scambiarci le idee e per cercare di costruire questo progetto. Quindi vi aspettiamo, contattateci e vi aspettiamo con l'umiltà e la passione di chi vuole cambiare le cose.